uhlala che spettacolarità uhlala oh no uhlala le merda le figure delle merda le merda le merda le figure delle merda marimbo delle merda accidente acquistare pente le press della patente marimbo merda messi l'apoleon francese ossa ma che lingua di merda allora e la misa ingorffè la misa ingorffè non ripartè la misa ingorffè la benzè e una non parte e allora mi devono una spinta perché se no allora ci stanno guardando mondo visione osso oioi ora prendo le baguette e teno in filo su pericolette che le figure le figure delle merda uhlala uhlala le casca managgia uhlala managgia se caschè se caschè il tanghè eccolo nate da volta a volta